Buonasera a tutti. Oggi è il 13 marzo 2023. Io sono Bruno Crevato Selvaggi, presidente dell'Istituto di Studi Storici Postali Aldo Cecchi e questa è la puntata di questa settimana del Tavolo dei Postali. Il Tavolo dei Postali è un'iniziativa congiunta dell'Istituto di Studi Storici Postali Aldo Cecchi, dell'Unione Stampa Filatelica Italiana, del Quotidiano di Informazione Filatelica Online Baccari News e del Polo Culturale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, cui compete anche il Museo Storico della Comunicazione. Fabio Bonaccina è il direttore del Quotidiano di Informazione Filatelica Online Baccari News e ora ci spiega che cos'è il Tavolo dei Postali. Prego. Buonasera. Arte, intrattenimento, conservazione, cultura sono i quattro filoni, quattro binari e fanno riferimento al Tavolo dei Postali, nato, dice la parola, per confrontarsi, per mettersi al tavolo e confrontarsi su queste tematiche afferenti al mondo della posta. Quindi non la posta come tradizionalmente intesa, cioè l'invio di una lettera, di un pacco da un punto all'altro, piuttosto a un superamento di questo concetto per vederne degli altri aspetti molto importanti e molto stimolanti che sono appunto la posta vista dall'arte, dall'intrattenimento, dalla conservazione, dalla cultura. Questa sera con il Museo Storico della Comunicazione scopriremo una cosa un po' curiosa che è più, diciamo, al più sulla comunicazione non fisica, ma penso che sia molto interessante, comunque sicuramente originale, è la storia di un linguaggio segreto utilizzato tra le donne nella Cina di alcune migliaia di anni fa. In una società basata su un sistema patriarcale dove vigeva la regola delle tre obbedienze, cioè al padre, al marito e poi al figlio maggiore, se la scrittura era un privilegio riservato agli uomini, alle donne veniva praticamente negato l'accesso all'alfabetizzazione. Da questa storia di immaginazione femminile nasce un linguaggio che supera le barriere di una mancata conoscenza e diventa sorrellanza, condivisione, formazione di comunicazione profonda. Io ho finito, grazie. Grazie. La dottoressa Graziella Rivitti è la direttrice del Museo Storico della Comunicazione che afferisce al Polo Culturale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e le passo la parola per un indirizzo di saluto. Prego. Buonasera a tutti e a tutte. Stasera sono particolarmente lieta di attendere l'intervento della dottoressa Gallerati, che è la responsabile del Polo Culturale e anche la responsabilità del Museo Storico della Comunicazione. Il museo è un percorso che si dipana nella storia della comunicazione a partire dai primi segni della mappa che troviamo nella tavola pentigioriana che riproduce l'itinerario che i messi e gli inviati dei messaggi per l'imperatore portavano in tutto quello che era l'impero allora conosciuto. Questo richiamo è semplicemente per dare una datazione diciamo anche fittizia perché come sappiamo le comunicazioni trascendono, sono l'essenza stessa della relazione degli esseri umani. Il nostro museo raccoglie alcune testimonianze che ne riguardano il percorso. In particolare poi abbiamo quella che è la comunicazione degli stati primitari, quella che poi sarà la comunicazione che vedrà affermarsi con il nuovo regno d'Italia e quindi sono tracce di posta, buste, buche delle lettere, eccetera. E fino a quella che sarà poi l'implementazione del percorso storico che non viaggia più soltanto con cavallo, dirigenza e poi arriverà il treno, arriverà l'aereo, arriverà la nave, fino a quelle che sono le comunicazioni virtuali che anche se partono da quello che può essere un messaggio semplicemente di un ticchettino del telegrafo poi arriveranno a quelle che sono le grandi scoperte di Meucci e di Marconi sulle vie del filo del telefono e sulle onde, appunto, qualcosa che neanche è più dato di vedere che sull'atario, fino a quella che poi è la traduzione virtuale delle immagini con l'atario. Sì, accogliamo anche quello che ha accompagnato e continua ad accompagnare le botte nella trasmissione delle lettere che sono appunto il grande patrimonio filaterico e che ci assegna lo Stato come custodi. Io mi fermo qui e lascio la parola alla dottoressa Gallerati. Buonasera, prima volta a tutti e a tutti. Bene, grazie. Allora la relatrice di questa sera è la dottoressa Gilda Gallerati, responsabile del Polo Culturale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e la sua conversazione di oggi per il ciclo appunto La posta mai immaginata del tavolo dei postali si intitola Le parole perdute delle donne. Prego, dottoressa. Buonasera a tutti. Oggi non parliamo né di posta né di filateria, né di niente come avete potuto capire che riguardi direttamente il museo, seppur la parola comunicazione in qualche modo ci lega ovviamente. Parliamo di un linguaggio, ma parliamo, cioè vi racconterò di un linguaggio, ma vi racconterò poi in definitiva di un fenomeno culturale anche, di una condizione di vita che parte disagiata e in corso di avanzamento diventerà una forza, un sostegno, un'unione, una comunione tra le donne della comunità di cui vi sto per parlare. Metto in condivisione lo schermo, eccolo qui, così potrete seguire meglio quello che vi racconto. Fabio ha iniziato dicendo che ci troviamo in un sistema patriarcale dove vivevano le regole precise di sottomissione delle donne a tutti gli uomini in definitiva del contesto familiare. Ovviamente il mio intervento non ha velleità di tipo scientifico, seppure ho attinto e approfondito a fonti assolutamente scientifiche, a filmati, a interviste raccolte sia sul web che presso video di tipo universitario, tra linguisti di lingua italiana e di lingua inglese. Vorrei però collocarmi un attimo geograficamente così vi è più semplice capire dove ci troviamo. Ci troviamo nella, questa in rosso, è la regione dello Yunnan, quindi la regione a sud-est della Cina, dove nasce il fenomeno. In realtà resta circoscritto in questa zona. Yunnan significa esattamente a sud del lago. Ci troviamo al di là della grande muraglia, quindi protette in qualche modo da dagli invasori, in una provincia e soprattutto nel villaggio di Piuwei, dove resterà, come vi dicevo, circoscritto l'intero fenomeno, pur ampliandosi naturalmente la curiosità non soltanto alla Cina del fenomeno, ma anche ad altri stati. Una specie Piuwei di oasi, di quiete e soprattutto di luogo di forte tutela della tradizione. In confronto ad altre donne della Cina, in realtà non stiamo parlando di donne di condizioni particolarmente disagiate, quindi povere, costrette ad una vita grama e soprattutto di grandi fatiche fisiche. No, rispetto ad altre zone della Cina, le donne dell'Uniunani in realtà sono state in qualche modo privilegiate, possiamo dire fortunate da un certo punto di vista, in quanto hanno vissuto in un ambiente particolarmente favorevole. La regione è calda, il terreno è molto fertile, l'acqua abbondante e non è stato necessario per le donne di questo territorio collaborare per esempio con gli uomini al lavoro agricolo, in quanto in verità i raccolti erano piuttosto abbondanti ed era sufficiente il lavoro svolto dagli uomini per sostenere abbondantemente tutta la famiglia. Quindi le donne si dedicavano pressoché alla cura della famiglia, soprattutto potremmo dire anche a delle espressioni d'arte, quindi alla tessitura, alla filatura, al cucito, al ricamo. Ed è proprio in questo contesto, diciamo, di lavoro manuale che troveranno la maggiore espressione del no show. Come vi dirò più avanti, avete già capito, sono donne che non hanno accesso all'istruzione e quindi non conoscono la riga ufficiale. Con gli uomini spesso fuori casa queste donne fanno un po' quello che succede anche in tanti paesi del passato, diciamo, dell'Italia stessa, cioè si trovavano spesso a coltivare anche la poesia orale, a recitare, a cantare, a tessere, a filare insieme a compagne di vita, quindi alle altre donne della comunità. Non conoscono, come vi dicevo, la lingua ufficiale, che non conoscono i videogrammi, non sono in grado di riprodurli, seppure al fianco di fratelli, diciamo così, imparano a conoscere in definitiva la struttura, diciamo così, grafica della lingua. E quindi poi capiremo perché riusciranno in qualche modo a dare vita ad una nuova forma linguistica. In questo territorio che vi dicevo, quindi nel villaggio di Piuwei, intorno agli anni novanta un giovane linguista nome Gong intraprese un viaggio per condurre delle ricerche su dei gruppi etnici della zona. Quindi fino agli anni novanta assolutamente non si sapeva nulla di questo linguaggio cosiddetto segreto. Lui stesso racconta che appena arriva nel villaggio di Piuwei un funzionario del Partito Comunista gli racconta che sua zia, originale della pontea, dello Yunnan, comunicava con le altre amiche, con le altre donne, in una lingua per lo più scritta, più che orale, chiamata appunto Nushu, che letteralmente significa lingua delle donne, e che sembrava appunto essere una lingua inventata dalle donne per le donne, praticamente sconosciuta fino a quel momento, la cui cronologia di avvio era difficile da collocare, da stabilire. Da una indagine approfondita poi apparve fin da subito che la scrittura davvero era completamente diversa dal cinese di uso comune e quindi praticamente difficile da tradurre. In quel momento, negli anni novanta, Nushu sembrava peraltro essere caduto quasi in disuso perché la rivoluzione culturale di Mao Zedong l'aveva, diciamo, messo al bando, in quanto considerato una specie di lingua delle streghe. Ovviamente finisce sempre così quando si parla di segreti tra donne, lingua delle streghe è comunque un'espressione di un passato probabilmente medievale. feudale. E quindi per lo più poi va detto che nel periodo della rivoluzione culturale le donne furono incoraggiate ovviamente all'educazione e quindi all'alfabetizzazione, per cui in realtà non c'era assolutamente bisogno di continuare ad utilizzare questo tipo di lingua. la criticità poi dei caratteri la faceva addirittura, si faceva addirittura pensare che fosse una specie di codice segreto per uno spianaggio internazionale, quindi a maggior ragione, proprio per timore e quindi per sospetto. Molte lettere, molte trame, molti ricami e altri manufatti su cui venivano scritte queste parole, più che sulla carta, furono distrutti e alle donne fu proibito di fatto di praticare la scrittura nusciù e tutto quello che intorno alla scrittura nusciù gira, come poi vi dirò. Di conseguenza, le catene generazionali che diciamo hanno trasmesso il linguaggio sono state praticamente spezzate e la lingua ha cessato di essere tramandata attraverso delle cosiddette sorelle giurate, poi vi dirò meglio di che cosa stiamo parlando. Oggi non c'è più nessuno vivo che abbia continuato ad imparare nusciù tradizionale. L'ultima, Yang Wan He, l'ultima abile conoscitrice della lingua che l'ha tramandata naturalmente, che l'ha avuta tramandata, scusate, dalla madre, è deceduta a settembre di una ventina d'anni fa nel 2004. Tuttavia, per fortuna, grazie al lavoro di alcune ricercatrici studentesse, ma soprattutto ricercatrici dello Yunnan, sono stati recuperati circa 2800 caratteri ed è stato possibile tradurre quelli che sono diventati poi dei volumi, ma soprattutto dei quaderni su cui nel tempo le donne avevano, diciamo, appuntato quello che poi hanno trasmutato nel ricamo e in altre forme artistiche. Ebbene, fu proprio un uomo, quindi linguista, dicevo, il giovane Gong ad essere stato il primo tra gli antropologi, i linguisti e gli accademici che hanno contribuito a salvare dall'oblio questo che abbiamo detto, detto poco fa, non è soltanto una lingua, ma è un fenomeno culturale. È difficile datarlo, però siccome viene inventato da una comunità di donne di ceto medio, che in ogni caso non avevano accesso all'istruzione, diciamo, i filologi possono con certezza collocarlo intorno al 1600 dopo Cristo, quindi tra l'inastia Qing e quella Ming. Il Nushu è sicuramente un sistema di scrittura perché i suoi caratteri sono stati creati praticamente ex novo, però sono soprattutto una commissione di dialetti, quindi sono, diciamo, caratteri di tipo fonetico, non sillabico, quindi non sono ideogrammi. Quindi diciamo che per la ricostruzione della storia di questo sistema alcuni elementi certi ci sono. Si tratta di un codice grafico ad uso prettamente femminile, anzi esclusivamente femminili per scopi privati, poi lo vedremo perché, e che sono trascrizioni dialetti, territoriali e locali. È collocabile quindi in un determinato territorio e viene utilizzato soprattutto da donne di ceto medio o alto. Perché dico che sarebbe meglio definirlo in un fenomeno culturale, perché in realtà definendolo soltanto un fenomeno linguistico si rischia di perdere tutto un mondo di tradizioni, di legami, di costumi, che è parte proprio intrinseca della cultura delle donne di questo, di questa zona della Cina che attraverso Nushu appunto hanno comunicato tra di loro. E quindi in qualche modo ci restituisce la testimonianza di una condizione che va a cavallo del diciassettesimo, diciottesimo e diciannovesimo secolo. Io direi che è bene ricordare una cosa, che fin da piccole anche le donne di ceto medio o alto erano private dei pieni diritti di cittadinanza e dovevano conformarsi ad alcuni dettami sociali che erano precisi, specifici. Primo, dovevano adeguarsi a canoni estetici. Si sottoponevano, come vedete dall'immagine, alla pratica della fasciatura dei piedi, che erano ridotti ad una lunghezza di circa 7-10, in alcuni casi 12 centimetri, per ottenere quell'andatura oscillante, diciamo così, che in qualche modo le conformava ai canoni estetici dell'epoca. Nelle varie tappe della loro vita, come abbiamo detto, dovevano obbedire al padre come figlie, al marito come moglie, ai figli come madri, quindi le famose tre obbedienze, e secondo i precetti confuciani erano obbligati ad essere caste arrendevoli, pacate virtuose, questa la devo leggere perché è difficile ricordare, pacate virtuose negli atti, tranquille e piacevoli nelle parole, fini e misurate nei movimenti, perfette nei lavori manuali e nel ricamo. E queste erano le quattro virtù a cui dovevano attenersi. Intorno ai 15 anni, più o meno, le ragazze erano considerate mature per sposarsi e quindi, ovviamente, dai 15 anni, e questo significava dover rinunciare alla giovinezza, lasciare il villaggio di provenienza, trasferirsi nel villaggio del marito, che spesso era, spesso, talvolta era uno sconosciuto, scelto di comune accordo tra le famiglie. Con l'inizio della vita coniugale, naturalmente, le giovani si dedicavano ad archività come ricamo, insomma, tutto ciò che inderogabilmente assegnava loro il sistema patriarcale. La morte del marito, poi, tra l'altro, non è che offrisse loro alcun tipo di scappatoia, perché spesso la vedova, con la morte del marito, si dava la morte essa stessa per raggiungerlo nell'aldilà. Era una pratica sociale, diciamo, molto, tra l'altro, ben vista per un lungo periodo. Addirittura sembrava che desse lustro il riconoscimento alla famiglia di provenienza della suicida. Una pratica così diffusa che la dinastia King dovette introdurre il divieto di suicidio e addirittura il reato di istigazione al suicidio. Tanti erano i casi. Va detto comunque che le donne che non si davano la morte, talvolta istigate, ovviamente, finivano per spreggiarsi il viso, per risultare meno attraenti e restare in qualche modo fedeli al marito ad esempio. Ora, per sopravvivere a questa condizione, che, insomma, è chiaro, diciamo, era piuttosto pesante, la tradizione offriva un sostegno alle ragazze. E qual era? Era quello di avere la presenza di una o più donne che fungevano da, diciamo, da sostegno, da conforto. Fin dall'infanzia, ecco, erano stabilite questi compagni. Per esempio, dopo la fasciatura dei piedi, alle bambine venivano, veniva assegnata una Lao Tong, una specie di sorella con cui stabilire delle affinità spirituali ed emotive. La Lao Tong veniva affidata a loro dalle mediatrici, che erano donne di mezza età, che avevano il compito di trovare una compagna che fosse nata lo stesso giorno, lo stesso mese, lo stesso anno, e che fosse degna di, diciamo, di essere la compagna di una vita. A questo punto, una delle due ragazze, le due bambine, anzi, scriveva una proposta di unione su un ventaglio, che sono tra gli oggetti naturalmente più utilizzati nel mondo dell'ushu, la proposta veniva accettata o non accettata dall'altra compagna. Dal momento in cui veniva effettuato questo rito di unione, allora il legame durava tutta la vita ed era destinato ad offrire naturalmente un conforto nei momenti più difficili. La Lao Tong era unica, era insostituibile, era proprio davvero un supporto determinante. E c'erano poi anche altri tipi di legame, c'era per esempio quello delle sorelle giurate, che stabiliva un vincolo che spesso assomigliava a quello tra l'insegnante e la studentessa, non necessariamente con donne che fossero nate nello stesso giorno, nello stesso anno, come dicevamo, ma era, diciamo, il modo con cui si poteva tramandare la lingua alle figlie e alle nipoti. Poi c'era quello dell'ospite di passaggio, era un rapporto con una ragazza di un altro villaggio che iniziava soltanto se si scioglieva quello precedente con la sorella giurata. E dunque le ragazze che stavano per andare in sposa erano quindi aiutate davvero da questa rete tutta femminile che le accompagnava, le sosteneva nella transizione fino al matrimonio. In questo contesto, essendo appunto spesso analfabete, assistevano indirettamente in qualche modo, come dicevo prima, alla formazione dei fratelli, conoscevano, diciamo così, almeno dal punto di vista estetico, il segno, il grafema linguistico della lingua tradizionale. Ma, come vi dicevo, componevano una scrittura che era fatta di caratteri che sembrava all'inizio a montassero a circa diecimila, quelli del Nushu. Successivamente sono stati considerate ugualmente ridotti perché in realtà, diciamo, alcuni casi erano dei, diciamo, dei doppioni in qualche modo. Il Nushu è scritto in forme curviline, è molto diverso, eccola qua, eccolo, questo è un esempio di lingua Nushu. È molto diverso dalla lingua ufficiale che invece aveva caratteri molto più tozzi. Il Nushu è scritto in forme curviline, spesso veniva ricamato come fossero dei disegni e forse proprio il legame con il ricamo, diciamo così, servì alle donne per non far comprendere agli uomini che si trattava di una lingua, perché veniva scambiato per un semplice ricamo. Ora, il Nushu ha molte distinzioni ortografiche rispetto alla scrittura tradizionale. Per esempio, mentre il cinese ha tratti grandi, come vi dicevo, audaci, che sembrano un po' essere stati modellati con un pennarello permanente, il Nushu, come vedete, ha dei caratteri sottili, inclinati, un aspetto quasi graffiato, che per lo più, diciamo così, assomiglia quasi alla calligrafia. Ecco, mentre il cinese tradizionale quindi è logografico, cioè i caratteri rappresentano parole e significati, il Nushu invece è fonetico, completamente fonetico. Quindi ogni carattere rappresenta un suono e il significato si evince dal contesto. Chi si serviva di questo linguaggio naturalmente aveva stabilito dei codici significativi specifici per varie parole e varie frasi, ma è probabile che probabilmente, insomma, molti lo ritengono in questo senso. Verremo a conoscenza soltanto di una minima parte di tutti i significati. Molti segreti in Nushu rimarranno segreti per sempre. Ora, torniamo un attimo al momento in cui le ragazze erano vicine al matrimonio. Nei tre giorni precedenti alla cerimonia, nella sala dei canti, la sala dei canti seduti, si recitavano i cosiddetti canti della sofferenza, che erano composti da quattro fasi. L'ultima con la partecipazione proprio di tutti i parenti. Le amiche nubili trascorrevano questa ultima giornata, diciamo, con la sposa e anche la notte, chiacchierando. Per la verità, io, insomma, se ricordo il mio matrimonio non è stato molto diverso. Io ho avuto una compagna di vita, tra l'altro, una compagna che mi ha seguito dagli studi, dalle scuole medie fino al liceo. La mia amica del cuore, insomma, che è stata anche la testimonia di nozze. Ebbene, lei è stata con me il giorno prima del mio matrimonio. Abbiamo trascorso la notte insieme a raccontare e a parlare, abbiamo fatto notte tardi e tutto il giorno, fino al pomeriggio in cui io mi sono sposata, lei è stata al mio fianco. Abbiamo riso, pianto. Insomma, alla fine ci sono situazioni molto analoghe anche nel mondo occidentale. Dicevo quindi che le amiche nubili trascorrevano, appunto, un tempo immediatamente precedente al matrimonio. Poi la madrina, che quasi sempre era la madre della sposa, dava inizio a questi canti, seduta sul terzo gradino della scalinata che portava alla stanza riservata alle donne. Ed era questo numero tre che, insomma, ritorna ed era accompagnata nei suoi lamenti anche dalle amiche della figlia. La sposa era vestita di rosso, si chiamava la sposa rossa. Scendeva le scale, vestita di rosso e dava in questo modo, diciamo, il passaggio, segnava il passaggio della vita infantile a questa, a quella adulta. Tre giorni dopo il matrimonio, poi la sposa riceveva il regalo più importante, questo libretto che vedete, il più importante regalo in lingua nusciù ed era il libro del terzo giorno. Il libro era composto, come vi dicevo, soprattutto di ricami. Le amiche e i familiari compilavano le prime tre pagine, lasciavano tutte le altre in bianco, come una specie di diario su cui la sposa poteva scrivere, poi successivamente per tutta la sua vita, i suoi pensieri, gli accadimenti, i futuri, diciamo. Ora, se da una parte si trattava di un libro, di una specie di libro del cuore, insomma, era però anche uno strumento per esprimere le paure, le ansie, la disperazione, ma anche una specie di vademecum che collegava le famiglie dei due sposi e in qualche modo, diciamo, offriva anche alle mogli, alle neomogli, consigli pratici. La famiglia di origine sfruttava un po' questi libri del terzo giorno, anche per introdursi in qualche modo, in quella di arrivo, e lasciava quindi su queste pagine messaggi un po' anche di compassione per la figlia, ma anche le spingeva a capire come comportarsi. Vi leggerò un brevissimo, una brevissima quartina con la quale si davano disposizioni sul gallateo alle figlie. Si diceva si gentile con tutti, non parlare mai ad alta voce, non ribattere a ciò che ti viene detto, non mostrarti testarda, ammetti sempre i tuoi errori, parla solo quando ti viene chiesto qualcosa, non intervenire quando non è necessario. Beh, insomma, come dire, è sì un viatico, è un'indicazione, sono regole precise, che insomma sono parole granitiche anche. Gran parte del corpus letterario del Nushu, come vi dicevo, è andato perduto, soprattutto perché hanno seguito nella tomba le loro attrici, in qualche modo, cioè sono stati sepolti con chi li possedeva. Nel 2012 il sinologo Idema parlava di 500 testi rimasti. Questo perché, appunto, dicevo, una volta sepolta la donna aveva con sé anche ventagli, cinture, libri del terzo giorno e tutto ciò che poteva servirle per goderle anche nella vita oltre a termine. Il primo manufatto Nushu che viene rinvenuto, per la verità, risale al periodo tra il 1851 e il 64. Viene, diciamo, è un periodo, questo in cui sono stati introdotti importanti riforme sociali e anche politiche, diciamo, a favore dell'uguaglianza di genere. Era una moneta di bronzo dove si può leggere, tutte le donne del mondo appartengono alla stessa famiglia. Ebbene, nonostante ci siano alcune divergenze tra gli studiosi, diciamo, sul corpus linguistico del Nushu, alcune cose restano, diciamo, certe. I brani non avevano titoli, non si usava la punteggiatura, diciamo, lo spazio era, cioè, le pause erano stabilite da spazi ed era soprattutto, diciamo, riconosciuto nei canti, che erano composti da cinque a sette sillabe e andavano dai venti ai cinquecento caratteri circa, per lo più ripetuti, ecco, con formule ricorrenti. Di conseguenza un unico, diciamo così, simbolo Nushu poteva riferirsi a tante parole, ecco perché vi dicevo, dai diecimila poi si scende di numero, a tante parole dal suono simile e il significato veniva, diciamo, stabilito dal contesto della frase. Nel 2003 è stato pubblicato il primo dizionario Nushu che ne elenca circa mille e ottocento di caratteri. Poi è stato stabilito che la cipresatta addirittura si attesta solo su trecentonovantasei, proprio per via delle ripetizioni, delle trascrizioni. Nonostante questa esiguità, il Nushu riesce a rappresentare tuttavia mille e cinquecento parole. Vi dicevo che le donne ereditano la scrittura di generazione in generazione e si poteva imparare, come vi dicevo, da una mamma, da una sorella maggiore, da una cugina e comunque dal contesto familiare. Oggi si può leggere gran parte del materiale che è rimasto in un'antologia di ben cinque volumi che è stata curata da alcune studentesse, volumi che contengono soprattutto prechiere, lamentazioni personali, lettere tra sorelle giurate e traduzioni di alcune opere della letteratura cinese, addirittura in Nushu. Certo, questo linguaggio segreto, diciamo, ha portato indubitabilmente alla formazione di una subcultura, se vogliamo, che è strettamente femminile, che trovava espressione nella vita quotidiana delle donne, veniva letto con una speciale forma di canto e spesso, soprattutto durante le riunioni delle donne, nelle cucine mentre ricamavano. Naturalmente ha avuto la grande funzione di rinforzare la sovellanza tra le donne, che poi tutte erano unite da una stessa sorte, come abbiamo visto, e in qualche modo poteva trasformare quindi la vita quotidiana che spesso aveva una sorta di cupezza, di nostalgia, incancrenita, diciamo così, in giornate più sopportabili, più vivaci, più diciamo accomunanti tra le donne. Le parole segrete quindi potevano in qualche modo liberare emozioni che erano profonde, comuni e sembravano rivelare un comune risentimento nei confronti della dominanza maschile. In realtà forse non è stato poi neanche esattamente così. Tant'è che viene normale chiedersi ma gli uomini, è possibile che in comunità così ristrette e circoscritte, è possibile che gli uomini non sapessero che le donne utilizzavano un linguaggio segreto per comunicare le loro emozioni. In verità le cose diciamo erano decisamente diverse. Cioè gli uomini non importava assolutamente nulla di quello che passasse nella mente nel cuore delle donne che sposavano, che per lo più sposavano per avere figli, per avere diciamolo pure, donne obbedienti, non pagate, che accudivano la casa e soprattutto la famiglia. in fondo cosa poteva interessare ad un uomo che nel detto comune diceva meglio avere un cane che una figlia in casa. Per la verità, come vi ho detto prima, spesso questi caratteri venivano scambiati dagli uomini con i tre piccoli disegni, così aggraziati. Nel 2004 è scomparsa, come vi dicevo, l'ultima testimone, Yang Wang Yi. Ecco qui vi faccio vedere alcuni casi in cui appunto lo shu veniva utilizzato sulle fasce, sulle cinte, sui dentagli. Eccola, lei è Yang Wang Yi, è morta a 92 anni. Sembrava che si sarebbe creduto eh questo linguaggio. Invece così non è stato. Oggi per essere definite le eredi eh di una nuova generazione si riceve addirittura una targa. Una targa direttamente dal governo centrale. I funzionari vanno nei villaggi, naturalmente nella zona che abbiamo visto, sottopongono le candidate a una specie di test che prevede di saper scrivere almeno trecento caratteri in u shu, di saper recitare i tre brani del libro del terzo giorno e o anche di avere scritto qualcosa in passato, di essere abili nella nella forma calligrafica. Addirittura recentemente ho letto che è stata introdotta una possibilità di compilare una specie di compilation eh di di diciamo scusate di 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 curriculum vite online eh nel quale poter riassumere appunto l'appartenenza a una certa comunità e anche la la capacità di saper scrivere e via dicendo. Dal duemilasai poi l'ushu è anche nel patrimonio eh immateriale eh tra i beni del patrimonio immateriale della Cina e si sta pensando anche di proporlo all'UNESCO eh però ovviamente un paese così basso che ha altre priorità e anche la mancanza di documentazione soprattutto di registri eh storici ufficiali affidabili e quindi rendono eh chiaramente molto difficile il percorso di eh di registrazione. Nel frattempo però eh io ho potuto constatare ehm anche con la professoressa Falcini con cui ho avuto un confronto che la scrittura ha abbarcato i confini nazionali eh ma non solo i confini del linguaggio anche per esempio il premio Oscar alla musica Tan Dun che è un compositore ha composto una sinfonia di tredici movimenti in eh diciamo in eh supporto del del della condivisione diciamo della diffusione del un artista italiano Alessandro Cardinale ha tenuto una una mostra alla Biennale d'arte contemporanea in Cina Italia Cina nel duemiladodici. C'è anche un gruppo musicale delle leccese che hm eh che porta il nome del del Nushu. Tuttora il Nushu resta praticamente sconosciuto a molti eh oggi le donne non vivono ovviamente più in una società che le obbliga per fortuna a fasciarsi i piedi a obbedire al silenzio delle autorità maschili. Tuttavia l'urgenza del del matrimonio rimane e questo le costringe in qualche modo anche spesso a rinunciare alle proprie aspirazioni eh sono sempre spinte dalle proprie famiglie anche dalla società soprattutto a a sposarsi. Ehm vi dicevo quando il Nushu è stato per la prima volta scoperto fuori dai confini eh dello Yunnan ehm molti pensarono che si trattasse di un linguaggio come dicevo prima usato per dissacrare una società patriarcale. Ehm in realtà come dicevo non è così. Molti scritti riguardano il sentire delle donne quindi il matrimonio, il dolore della separazione dalle famiglie di origine, sono l'odi alla futura sposa da leggere durante le cerimonie inunziali e e quindi è veramente la diciamo il racconto di tutto un mondo femminile, di un sentire femminile. Recentemente eccolo qui questo è il museo del Nushu, la Ford Foundation ha devoluto duecentomila dollari per costruire un museo interamente dedicato al Nushu ehm eh che ospita che si trova nel nel territorio stesso dove è nato, ospita registrazioni audio, manoscritti, articoli, alcuni anche dei quali risalgono a oltre cento anni fa, ovviamente poca cosa, dicevamo perché molto è andato perduto, l'investimento però viene eh sfruttato anche per creare un circuito turistico questo questo naturalmente gli studiosi sono piuttosto piuttosto critici ehm per inciso e vado a concludere prima di farvi vedere un piccolo video ehm il Nushu è anche il tema di un romanzo storico ehm di Lisa Si Fiore che si intitola La neve e il ventaglio segreto eh che vi consiglio è un romanzo molto toccante e che è stato riadattato anche al cinema e concludo con un detto cinese poi vi farò vedere uno spezzone del film e il detto cinese dice davanti a un pozzo non si muore di sete quando si è con le sorelle non c'è posto per la disperazione e infatti appunto come vi dicevo in un tempo non troppo lontano in cui le donne si sposavano contro la propria volontà e venivano allevate con i piedi eh fasciati per essere più graziose quindi l'amicizia tra le donne eh era sta è stato il bene più prezioso eh vi faccio vedere eh un pezzettino eh di questo video eh aspettate che vediamo se ci riesco e il mondo cambia continuamente dobbiamo guardare al passaggio per scoprire ciò che non cambia e la storia della nostra famiglia stiamo parlando di molte 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 generazioni fa si chiamava Fiori di Mede e aveva un forte legame con Giulio Bianco furono sorelle giurate per tutta la vita Potevano solo scriverso non avevano altre voce che quella Sto scrivendo un libro parla dei vecchi tempi Credo che più che altro pari di me Grazie 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 Anche I nostri destini sono legati in un eterno mondo Sempre insieme Solente per diecimila anni Ecco qui ho finito bene molte grazie naturalmente se ci sono domande commenti vi piacerebbe insomma anche allora noi siamo qui abbiamo ascoltato con attenzione e eravamo numerosi siamo rimasti naturalmente anche molto colpiti da queste situazioni antiche ma così vicine a noi che si ritrovano in tante culture in tanti mondi diversi sempre di assoluta subordinazione, prevaricazione eccetera purtroppo sappiamo che esistono completamente anche oggi fortunatamente il mondo occidentale le ha superate o perlomeno quasi completamente superate le prime domande che vengono alla mente ovviamente in un linguaggio unicamente scritto e in relazioni amicali che sono unicamente scritte e anche allora diciamo queste amiche fisicamente quali distanze si trovavano ovvero la tecnica della trasmissione fisica di questi messaggi allora si trattava di messaggi scritti ma anche di messaggi cantati erano anche delle come vi dicevo si tratta di caratteri fonetici per lo più che quindi sono la come posso dire il conglomerato di forme dialettali quindi di linguaggi dialettali della zona e la trasmissione avveniva tramite la consegna di lo scambio quindi di oggetti che potevano essere cinte ventagli tessuti ricamati ma anche cantati e quindi il canto era una forma di racconto di fatto più che di comunicazione dicevo il canto avveniva in situazioni di diciamo comuni di unità di unione per cui nel momento in cui si svolgevano altre attività manuali di cucina magari si cucinava con con altre componenti del del villaggio piuttosto che mentre insieme si ricamava e quindi era un un modo naturalmente abbiamo detto che era un modo per ricordare il tempo passato la felicità dell'infanzia per diciamo condividere un sentire di dolore di nostalgia piuttosto che anche per raccontare le gioie della maternità o anche del del tempo contemporaneo quando c'era era comunque un un modo intimo di confidarsi al di là della parola la semplice parola ma attraverso un un sistema che permaneva in qualche modo quindi oltre che essere orale anche scritto che permaneva e diventava parte del proprio patrimonio di beni eh anche fisici abbiamo abbiamo sentito che molto è andato perduto perché ha seguito le donne eh nella sepoltura diventava una sorta di corredo personale il libro del terzo giorno appunto che era quello sul quale le le amiche la madre la suocera appuntavano consigli regole nelle prime tre pagine poi diventava un patrimonio personale sul resto delle pagine erano non soltanto in carta ma spesso era anche in tessuto erano libri fatti di stoffa e quindi potevano ricamare erano donne che non accedevano alla alla formazione quindi erano analfabete per cui quale altro modo avrebbero potuto utilizzare se non inventarsi una lingua che consentisse loro di scrivere in un altro modo quindi riportare per iscritto qualcosa che era fonetico insomma è una cosa magnifica certamente molto commovente devo dire certamente abbiamo ora non vi ho fatto sentire scusami se ti interrompo non vi ho fatto sentire ma li potete trovare sul web non vi ho fatto sentire vedere sentire dei video in cui ci sono alcune di queste donne che cantano queste nene è molto bella la sinfonia che vi dicevo di Tandù che è stata anche più ripremiata certo è musica tipica orientale ma insomma sono molto commoventi certo c'è una domanda da parte di Raffaella Gerola prego allora no più che una domanda era una constatazione innanzitutto grazie perché davvero è stato interessantissimo e molto commovente ecco io sono indecisa se essere molto commossa o molto arrabbiata ecco per questa per questa situazione intanto stavo guardando ecco una cosa che mi è tornata alla mente vedendo appunto queste scarpine questi piedi così ecco che quando poi finalmente hanno liberato questi piedi in realtà queste donne hanno questi fettoni che arriva al 40 di piede quindi immaginiamo quanto cioè fosse veramente compresso tutto cioè non soltanto il fisico ma veramente tutto ecco la mente che altro per cui effettivamente questo questo linguaggio nascosto così femminile ecco questa questa cosa che poi siccome è un ricamo un po' come quello che si diceva ecco da noi cioè vai a far la calzetta che adesso è una cosa che invece è tornata cioè si è scoperto che questo lavoro così manuale in realtà serve molto come una meditazione infatti guarda a casa adesso gli uomini l'hanno scoperta e quindi a lei tutti che lavorano maglia e all'uncinetto ecco però ecco quindi proprio questa idea che se è qualcosa di femminile quindi è sicuramente qualche cosa dalla di secondario ecco invece è stupendo è meraviglioso ecco proprio anche questo sistema proprio di ricamare quindi di ragionare su quello che tu stai scrivendo che stai facendo così quindi davvero grazie 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 sono contenta che sia arrivato insomma io mi sono anche va bene sono molto curiosa quindi insomma sono sempre aperta a nuove cose sono mi sono imbattuta un po' per caso nel Nushu e in verità seguendo appunto un'intervista ad una giovane studentessa si chiama Falcini che ha scritto un libro recentemente proprio su Nushu e mi sono appassionata e devo dire davvero anch'io sono rimasta stupefatta soprattutto della capacità di queste donne di fare di una debolezza una forza in qualche modo un'ancora di salvezza qualcosa che travalicasse anche il quotidiano ed entrasse dentro al panteon sia dell'arte che della diciamo del trascendente ecco l'idea che loro erano consapevoli che avrebbero portato con sé questo patrimonio di intimità insomma c'è anche questa questa la questione dell'intimità insomma noi sappiamo bene che le nostre mamme forse la mia l'ultima generazione credo ma insomma mia madre era molto riservata nei suoi sentimenti nel come tante insomma oggi siamo un po' più aperte ci parliamo di più ci confidiamo di più anche tra di noi non esitiamo a farlo anche in contesti diciamo allargati una volta non era così e la discrezione era il codice diciamo del linguaggio femminile per lo più insomma e quindi mi sembra che sia più o meno più o meno la stessa cosa ma questo di utilizzare una debolezza tanto lacerante in una forza di sopravvivenza che fosse anche elemento di gioia ecco di poter passare anche alle discendenti un segreto bello bellissimo la trovo veramente una cosa molto molto bella sì vedo vedo tra coloro che sono presenti una amica e sorella vedo Laura Moschini che bello che naturalmente che naturalmente ha maggiore valore scientifico di me nell'approcciare ai temi quindi insomma sono anche un po' in soggezione ma per fortuna ti ho visto solo ora tanto ormai è fatta ormai è fatta continuiamo la discussione ha chiesto la parola Mario Coglitore prego ciao Gilda intanto bellissimo intervento mi è piaciuta moltissimo anche perché poi domani facciamo una cosa qui un gruppetto di noi lettori lettrici proprio sul tema della donna quindi riporterò sicuramente questa questione perché è molto interessante un volo che forse mi è mi è sfuggito ma il non so se hai detto no l'altra parte come reagiva intorno a queste vicende i nomini sì sì c'erano c'erano ci sono stati episodi di intercettazione hanno provato a capire cosa stava succedendo oppure allora da una parte come dicevo intorno agli anni 90 80 90 il regime di Mao Tse Tung lo scambiò per un linguaggio in codice e quindi ne vietò l'uso e poi d'altronde le donne cominciavano anche ad alfabetizzarsi quindi non c'era neanche bisogno di utilizzare un altro linguaggio e quindi diciamo in quel momento da quel momento in poi non se ne fece più un uso per lo scopo d'altro lato d'altro canto gli uomini contemporanei a queste donne che l'hanno inventato quindi già a partire dal 1600 dopo dopo Cristo ovviamente a venire avanti i stati disinteressavano completamente cioè essendo un diciamo così il frutto di un lavoro intellettuale comunque in qualche modo femminile trasmutato in arte quindi in ricamo piuttosto che in canti in poesie seppur non comprensibile cioè pure se lo sentivano perché si trovavano in zone limitrofe non li interessava minimamente perché tutto ciò che riguardava il mondo femminile veniva considerato di scarso valore cognitivo e quindi nel fatto che non comprendessero quello che stavano dicendo tutto sommato visto che comunque non discendeva da ciò una protesta in qualche modo loro continuavano ad essere naturalmente sottomesse obbedienti devote insomma rispettavano le famose quattro regole comportamentali e tutto l'altro pante stabilito insomma da una società di tipo patriarcale che in fondo a loro non creava nessuna preoccupazione ecco considerando che appunto le donne venivano ritenute una sottospecie di fatto e quindi non aveva per loro nessun significato indagare d'altro canto le donne stesse insomma accettavano completamente la loro posizione ma come vi dicevo di questa debolezza hanno fatto almeno una forza comunicativa intima certo io faccio anche un'altra osservazione tecnica dunque vedo un'altra mano alzata Raffaella se hai alzato di nuovo oppure sempre la precedente credo sia la precedente bene cito volevo citare la l'integrazione della comunicazione che è una caratteristica dell'età medievale e moderna cioè l'integrazione fra la comunicazione scritta e orale che non può prescindere l'una dall'altra il corriere che trasporta nell'Europa medievale o anche nell'Europa d'età moderna una lettera scritta aggiunge informazioni notizie da trasmettere per via orale come gli è stato ordinato di fare anche qui siamo in una situazione simile perché abbiamo sentito dell'integrazione fra la comunicazione scritta e quella orale attraverso il canto quindi vediamo come le situazioni si ripropongono anche in tempi e latitudini diverse vi sono altre considerazioni o domande allora se non vi sono ringrazio ringrazio la dottoressa Gallerati ovviamente per questa più che interessante anche commovente relazione come giustamente ci ha detto mi ricordo che si troverà su youtube a partire dai prossimi giorni nel solito canale del ministero delle imprese del made in italy e in conclusione ricordo allora che questa è stata una puntata del tavolo dei postali che è un evento organizzato congiuntamente dall'istituto di studi storici postali Aldo Cecchi dall'unione stampa filatelica italiana dal quotidiano di informazione filatelica online Baccari News e dal polo culturale del ministero delle imprese e del made in italy Fabio Bonacina che è il direttore del quotidiano di informazione filatelica online Baccari News ora ci anticiperà il tema di lunedì prossimo stessa ora con anche se non ho capito male una ulteriore anticipazione prego Fabio non hai capito male cominciamo dall'ulteriore anticipazione è un'idea che voce è nata un paio di settimane fa ma nasce da una relazione dell'anno scorso di Maria Grazia Chiapori che aveva parlato di alcuni uffici postali monumentali di Roma ebbene alla fine siamo riusciti a organizzare una visita guidata proprio da lei su alcuni uffici di Roma abbiamo scelto Roma perché è quella che permette che ne offre di più insomma ve lo leggo velocemente comunque nei prossimi giorni vi arriverà il dettaglio si svolgerà dal 23 marzo al pomeriggio a sabato mattina del 25 il 23 pomeriggio vedremo il Tiburtino Sud che è in Vialetto Gliatti è un ufficio molto moderno questo è stata una prova fatta da posti italiani su un nuovo modello organizzativo un nuovo modello di arredo di qualche anno fa però è rimasto ne conosco solo due esempi uno è a Roma e l'altro Milano alle 16.30 visiteremo Palazzo Piacentini che è la sede del Ministero delle Imprese del Made in Italy monumentale anche esso già lo dice il nome del progettista il venerdì sarà il giorno più impegnativo perché muovendoci sempre con i mezzi pubblici vedremo ben quattro uffici postali maggiori di questi sono tre sono razionalisti uno fino ottocento primi novecento sono il Roma Nomentano il Roma Appio il Roma Prati e il Roma Vaglia Risparmi quello di piazza San Silvestro 19 li vedremo all'esterno e all'interno grazie al supporto di posti italiani infine sabato mattina la gita chiamiamola così col treno a Ostialido dove c'è un altro importante edificio monumentale che sono le poste locale in piazzale della posta tutti così chi ribadisco riceverete nei prossimi giorni una comunicazione più dettagliata con gli orari eccetera non costa niente tutto tutto quanto perché nel senso che ognuno si sposta con i mezzi pubblici alla sera dorme dove ritiene opportuno eccetera quindi come organizzazione non costerà nulla bisognerà semplicemente prenotarsi e qua visto che siamo sul tavolo postale abbiamo questo questa possibilità diciamo di coinvolgere più realtà la mail sarà quella solita che si usa per ottenere il link a questi incontri che è museo.comunicazioni chiocciola mise.gov.it ringraziamo quindi il museo storico della comunicazione per questo questo supporto da segreteria in qualche modo però è importante avere anche quello dicevo sarà importante poi prenotare perché non potrà arrivare all'ultimo momento per ovvie questioni organizzative passo quindi a quello che invece accadrà accadrà lunedì prossimo ora è sempre alle ore 18 e il penultimo incontro di questo ciclo al 2023 e avremo Luca Esposito Luca Esposito è un quasi un bis o quasi insomma nel senso che questo intervento doveva essere previsto al tavolo postale di Trieste quello fisico che abbiamo fatto l'anno scorso poi purtroppo l'autore si è ammalato e ho dovuto improvvisare io un raccontino della vicenda però chiaramente è tutto un altro impegno un'altra cosa che a spiegarlo sia lui il titolo è a piedi sulle tracce dell'antico itinerario postale per le Calabrie è il racconto di una passeggiata a piedi lungo la strada a reggia delle Calabrie in uno dei tratti più affascinanti dell'itinerario postale ottocentesco partendo da Castelluccio Inferiore provincia di Potenza e arrivando a Castrovillari provincia di Cosenza è un cammino questa esperienza è stata svolta ad agosto dello scorso anno e ha coinvolto molti partecipanti alla scoperta di un territorio autentico ricco di storia paesaggi ed eccellenze gastronomiche inogastronomiche quindi si parte da qualcosa che esiste che si stava dimenticando Luca Esposito prima ha fatto un libro poi questo è il grande passaggio avanti non si è fermato alla ricerca scientifica alla ricerca storica ma ha cercato poi di valorizzarlo in concreto quello che aveva scoperto di farlo riscoprire ed ecco che appunto ha organizzato questa esperienza l'anno scorso e che probabilmente riorganizzerà quest'anno grazie ancora per l'attenzione e buona serata allora Fabio visto che quello della settimana prossima sarà il penultimo appuntamento per questa edizione virtuale del tavolo dei postali ci puoi ricordare anche quale sarà fra 15 giorni l'ultimo appuntamento allora l'ultimo sarà con Enrico Bertazzoli il titolo è l'estetica nascosta delle buste postali l'esame scarsamente praticato forse l'ha fatto solo lui o pochissimi altri del lato interno di insignificanti normali buste di corrispondenza del passato però può far scoprire aspetti estetici e curiosità davvero impensabili occorrono pazienza e attenzione per liberare dalla colla i quattro lembi che uniscono tra loro la busta e la chiudono riportarlo allo Stato ante confezionamento cioè aperta e le sorprese sono garantite e vi garantisco che sarà che perché abbiamo un problema di collegamento per i copertazzoli con lorenzo carra di quanta attenzione no siamo a posto io lo sento benissimo bene allora tenendo per il dente stavo dicendo con quanta cura con quanta attenzione vengo stai parlando tu o sto parlando io non ho capito prego prego mi senti si prego ah ok stavo dicendo forse siamo starati con 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 l'audio stavo dicendo il è interessante avendo visto questo libro si rimane allibiti di quanta ricerca c'è stata nel tempo soprattutto anni 50 e 60 del secolo scorso ma non solo sulla questa cura tipografica grafica e tipografica nella caratterizzare una una parte della busta che tutto sommato appare sempre in secondo piano chiudo il mio intervento grazie e buona serata bene allora grazie e dandovi appuntamento a lunedì prossimo e a lunedì fra 15 giorni per questa edizione virtuale del tavolo dei postali che naturalmente non sarà l'ultima ricordo a tutti che la conversazione di oggi sarà riascoltabile a partire dai prossimi giorni sul canale youtube dedicato un cordiale saluto a tutti buonasera 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 grazie arrivederci a tutti grazie a tutti grazie a tutti